Il prossimo è un pezzo mio scritto quattro anni fa e dedicato a un mese si chiama Agosto e è un pezzo scritto in pieno Agosto in una località della Basilicata in un giorno caldissimo. Faceva talmente caldo che l'idea era quella di scrivere un pezzo senza spostare troppo la mano sul pianoforte. Voi sapete che i pianisti spesso devono spostare il pollice. Il tema di questo pezzo si può suonare con la mano ferma per la troppa afra di quei Agosto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.